Il Comando Provinciale Sassari svolgerà dal prossimo mercoledì in tutto il territorio del Nord Sardegna controlli mirati nei confronti degli esercizi commerciali. In particolare verrà monitorato il rispetto delle regole dei cosiddetti saldi di fine stagione. Per gli eventuali trasgressori sono previste sanzioni a carico del commerciante che non espone correttamente i prezzi di vendita, dai 300 ai 2000 euro. Per eventuali segnalazioni di anomalie da parte dei cittadini è sempre disponibile il numero verde gratuito di pubblica utilità 117, attivo nell'arco delle 24 ore.